Silvio Berlusconi e Angelino Alfano hanno consumato la separazione. Il Delfino ha scelto di prendere le distanze dal leader carismatico e dai suoi più agguerriti sostenitori, ma tale duranime di quello che era il PDL sembra non essere all'orizzonte alcuna guerra e continuano, da ambo le parti, ad arrivare messaggi di grande apertura verso gli ex compagni di partito. Ad accendere il dibattito politico è però anche il caso del ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, che divide il centro-sinistra. Il candidato alle primarie democratiche, Pippo Civati, ha ufficialmente chiesto una mozione per la sfiducia. Anche le altre componenti del partito sembrano essere in movimento. Sia dal candidato istituzionale Gianni Cuperlo sia dai renziani arrivano infatti richieste, quanto meno di un chiarimento, sulla vicenda che vede coinvolta il ministro e la famiglia Ligresti.